le pressioni nei suoi confronti. Opposizioni all'attacco, il PD annuncia una manovra alternativa a quella del governo. Noi ci dobbiamo far trovare pronti quando, nel momento in cui questa maggioranza andasse in crisi per le scelte divergenti delle sue forze, noi dobbiamo saper parlare al Paese con un linguaggio di chiarezza, di credibilità. D'Aleu, speranza avverte, basta veline, l'esecutivo anticipi la nota di aggiornamento al DEF.